faccio un video così faccio prima praticamente avevo io al 120 kdj 120 wagon avevo rotto lo schermo quindi non era più touch e non riuscivo più a comandare condizionatore temperatura eccetera avevo i tasti sotto ma non sono sufficienti per comandare la temperatura della macchina allora mi sono formato un po guardato e ho trovato questo questo funziona così allora vediamo se riesco ecco allora questa è la parte del condizionatore funziona tutto quindi sia sia i tasti touch qui che i tasti fisici sotto ha delle funzioni che la mia macchina non ha quindi funzionano ma tutto quello che la macchina è comandato da questo si può spegnere accendere poi sia adesso si è già collegato con l'hot spot del cellulare quindi possiamo già navigare a tutte le app quindi possiamo scaricare qualsiasi cosa diciamo qualsiasi app c'è il play store funziona con android per cui funziona tutto bene qui abbiamo di nuovo aria condizionata e varie impostazioni va bene qui abbiamo un navigatore qua abbiamo le canzoni musica spotify qua la ricerca di google se vogliamo fare una ricerca scriviamo occhiali occhiali chiari ecco che ci fa la ricerca degli occhiali scendiamo su youtube qui youtube funziona molto bene uguale anche la ricerca vocale quindi è proprio come come se fosse su un tablet dopo di che vediamo qualcosa che può interessarsi al viva voce qualizzatori vari eccetera io non utilizzo tanto poi cosa anche qua tutte le cartelle se si vuole inserire file eccetera e poi avrebbe la telecamera posteriore che io non l'ho installata perché avrei dovuto smontare tutto il cielo della macchina era un lavoro che non mi interessa perché appunto vivendo in montagna non i parcheggi sono sempre molto larghi e basta funziona molto bene ce l'ho da tre quattro giorni quando tre quattro giorni e per ora funziona tutto molto bene non ho altro da dire vediamo se mi viene in mente qualcos'altro calcolatrice a se c'è la possibilità con carlink 2.0 di collegare direttamente il cellulare in modo tale che si veda le icone del cellulare quindi quando si sposta le varie cartelle sul cellulare si spostano anche lì va anche a questo a me non interessa a me interessava maggiormente avere una radio la musica con spotify perché con le cassette andava avanti con questa cassetta qui col cavo bluetooth che è una soluzione buona però un po scomoda perché bisogna sempre collegare il navigatore non dico che il navigatore va bene youtube comunque va bene se si deve ascoltare musica su youtube eccetera bene